Ciao a tutti, allora scusate se non mi mostro in questo video ma volevo presentarvi questo trucco questo trucco è un video in collaborazione con Giorgia vi lascio nell'info box qui sopra il link del suo canale e questo video in collaborazione avrei dovuto caricarlo un po' di tempo fa infatti mi scuso tantissimo con Giorgia però purtroppo l'ho fatto due o tre volte ma sono uscita fuori in quadratura e non ho registrato l'entro di questo video perché l'ho registrato a fine agosto e dato che dovevo uscire, avevo fatto tardi non sono uscita a registrato l'entro però il video si vede abbastanza bene e sono in quadratura quindi io spero che questo video vi piaccia vi invito a guardare il video di Giorgia che ha fatto un trucco molto molto bello e colorato e spero che il mio video vi piaccia e ci vediamo al prossimo video ciao applico una mappe ecco il pennello di Urban Decay questo qui se trovo vi faccio vedere questo qui metto piatto e prendo un rettelitico e lo uso sotto qui che è il numero e lo apro 171 che è un questo tipo di colori qui che va nel viola, nel grigio, nel marrone non ho ancora capito un bel avvento rendo e lo proprio senza tutta la parte lo mopria Sì così come un pennello da assamatura si trova così prendo un'anichetta questa sorta di viola lo applico qui e lo sfumo un'anichetta un'anichetta all'arcata quello che sto con mercadine mi liquete Così, poi vengono le linee di crema di alfa, come vengono così, all'ottimo, si va all'interno dell'occhio. Anche sotto il caso, rimane l'interno più solido. Superiore, senza fare come me. E poi la prendo un po' sulle ciglia inferiori, tra le ciglia inferiori, così. Ok, siamo quasi pronti, andiamo a fare la base. Allora, vengono a tenere la botte di crema di crema di crema di crema di crema di crema. Non, 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 non. Allora, vengono a tenere la botte di crema di crema di crema di crema di crema di crema di crema. Allora, vengono a tenere la botte di crema 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 di crema. Vengono a tenere la botte di crema 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 di crema. per un ragazzo A presto a presto a presto a presto a presto. ok ora coliamo la nicchetta e vado a prendere con il pennellino dalla nicchetta vi faccio vedere la penna bacca che è marrone e mi vado a rifinire la nicchetta ora che cosa succede? che cosa succede? grazie 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 lo applico sulle dute quindi questo è il mio trucco finito spero che vi sia piaciuto e vi rimondo al prossimo video ciao